Salve e bentornati su Gamehung Siamo qui in compagnia di Ketrin Che ha aperto un canale Incredibile ragazzi Se vi ricordate Ketrin è stata partecipe Dei miei video su Amnesia A parte tipo l'ultimo e il penultimo Però vabbè Una roba interessante E sul tuo canale cosa farai Ketrin? Comunque passate sul suo canale Perché vogliamo guadagnare tanti soldi Che noi siamo demoni grab e schifosi Oh merda Dove sono i 5 euro? Non lo so Dove sono i 5 euro? Eccoli Allora sicuramente ci saranno cosplay movie Make up tutorial su alcuni personaggi Che ho fatto E che farò E video blog Anche in Giappone Che probabilmente a giugno Lui verrà con me Non so se un mese O rimarrà per tutti e tre mesi No Benissimo E poi faremo anche un video su come si rapportano i giapponesi con le tette grandi E le tette saranno le sue Sul tuo canale ancora non ci sono video perché giustamente dobbiamo trovare il cameraman e tutti Le stiamo programmando Appena saranno disponibili però lo comunicherai sulla tua pagina facebook Quindi vi lasciamo tutti i link in descrizione Quanto ho sempre desiderato fare sotto in descrizione Vai puoi farlo In descrizione ragazzi E niente Ovviamente non partirò subito con i vlog Ehi ciao ragazzi Ehi ciao chi è questa Abbiamo video vlog E partiremo subito con qualche cosplay movie La cosa brutta è che il suo canale sarà registrato meglio del mio E certo ci vuole poco Guarda che Questo video è tutto Ciao brutta gente del web Perché brutti? Sono carini Tra me Ciao ragazze Benvenuti in questo make up tutorial Volevo farvi vedere questo bellissimo trucco che ho realizzato E volevo presentarvi questo rossetto di Chanel Non so se si vede Non so se si vede Non so se si vede Se vede Se vede Se vede mo Grazie comunque alla collaborazione di Cleo Make Up Grazie Riccardi come il primo